Oggi veramente una bellissima visita, una realtà importante dalla quale trarre spunto e consiglio. Qui abbiamo una prova di che cosa è una impresa formativa. L'impresa formativa che permette ai ragazzi la transizione dalla scuola verso il lavoro. Il lavoro è un principio costituzionale, il lavoro è l'asse portante del nostro Stato, della nostra nazione. Il lavoro non solo nobilita, ma il lavoro insegna, il lavoro ti permette di fare parte della società. Abbiamo vissuto un anno di difficoltà dove molte aziende sono state anche costrette a ridurre le loro attività. Oggi vi sono anche alcune proteste e quello che chiedono queste aziende in realtà è solo una cosa, che è quella di lavorare. Quello che la gente chiede è di lavorare, perché il lavoro ti permette di stare in mezzo alle altre persone, ti permette di confrontarti, ti permette di crescere. La realtà che oggi vediamo qui a Tiene è una di queste grandissime eccellenze e ci può dimostrare veramente come si può fare per affrontare un tema non facile, che è quello del collocamento mirato e la possibilità delle persone con disabilità di lavorare.